Gli specchi bar end Royal Enfield hanno ottenuto un successo clamoroso. Vedete qui quanto costano in India? Costano circa, con i tamponi laterali, circa 7.000 rupie indiane, che sono circa 77 Euro. Poi questo prezzo lievita notevolmente quando li andiamo a comprare dai nostri concessionari perché la richiesta siamo intorno ai 180-200 Euro. Non sappiamo perché c'è questo aumento di prezzo rispetto al mercato indiano. Il prodotto è ottimo, io l'ho provato personalmente, sono robustissimi, anche se non sono proprio il mio stile che mi piace di più, però devo dire che hanno una visuale molto ampia e sono molto accattivanti, possono piacere o no, qui le vedete sulla New Classic. Però secondo me che cosa ha creato questo tipo di specchetti? ora ve lo farò vedere, ora guardate bene i miei che sono originali, originali Royal Enfield, ora li ho momentaneamente tolti perché a me piace cambiare, questi sono gli specchetti originali Royal Enfield. Ripeto, sono veramente fatti bene con uno specchio molto molto ben fatto, che fa vedere bene dietro in modo eccezionale. Però questa esagerazione del prezzo che cosa ha portato? ha portato a un fenomeno che nessuno si aspettava, specialmente con Royal Enfield. Ora vi dirò che cos'è e guardate ora questi altri specchetti, guardate, sembrano sempre loro e invece no, sono delle copie Royal Enfield, degli specchetti che vedete hanno delle confezioni anonime, sono così senza nessun nome, però pure loro sembrano fatti molto bene e vedremo dopo il perché, qual è la mia deduzione a questo riguardo, perché siano fatti bene. Il costo siamo circa un terzo del prezzo diciamo che paghiamo qui in Italia. questo è l'amico Manavo Sharma che cortesemente mi ha fornito queste queste immagini, vedete gli specchietti qui, sono notevolmente, io trovo solo una piccola differenza nella scritta, però ripeto, sempre guardando il video, non l'ho visto, quelli originali sembrano più grandangolari. Quindi ci sono le copie dei bar-end Royal Enfield in giro, quindi ragazzi attenzione se dovete comprare questi specchi online, verificate bene che la confezione sia con l'etichetta Royal Enfield con l'ologramma se volete evitare di avere una copia, che ripeto, sembrano fatti bene. La dimostrazione di quello che vi ho detto è appunto che abbiamo pesato gli specchietti, sono 298 quelli originali, mentre quelli non originali sono 290 grammi. Facciamo presente che sugli specchietti originali è presente l'omologazione. Va bene, vi saluto, ciao ciao da Ferdi!